Stortini, oggi vi porto un video che è stato realizzato 10 mesi fa ma che sinceramente merita di essere rivisto. Ho fatto uno scherzo epico a mia mamma mentre stavamo usando il VR, ma non vi voglio spoilerare tanto, lo vedrete tra un po'. Ma prima di partire con il video, come sempre saluto tre di voi che sono Michi15Z, Giorgia Bellotti e Mischi2000. Se volete essere saluti anche voi mi raccomando commentate con hashtag salutami e buon video, bella! Sei storto, sei scemo, bassino, sei brutto, mi sembri uno nuovo con le gambette corte, con le manine storte, con quattro o cinque menti, tu sei veramente storto! Sì, ma non troppo! Perchè me lo dai a me? Eh, perchè se ti faccio un attimo tu testalo intanto come no? Eh, ma io non riesco! No, adesso ti dico io che ti dico io che ti dico io, e no perchè me l'ho aiutato che non ha trovato un attimo, ma se non vuoi fare le immagini in quello gioco. Eh? Che brutto, Dio mio! Ah! Ma te cani, ci fare qualcuno perché l'avevo vista giù prima. Ah! Ti devi guardare attorno, mamma. Eh, amore, non c'è niente! Quei muri ci sono, sangue! Cosa devo fare? Eh, brava, con quelli sotto. Con quelli sotto? Brava. Ah, così, ah. Fai con l'altro passo sotto, con l'altro. Qual è? Quello dall'altra parte. Ah, questo. Guarda, ok. E con quelli sopra carichi. Bravissimo, carichi. Ok. Eh, però... No, devo sparare adesso. Carica! Madonna, che brutto qua! Ma dove ti... Michi, aiuto. No! Michi, dove sto passando, Michi? Madonna! Dio mio, partire gioco le palle, Michi. Tu mi fai... Madonna, fuoco. Sono muoviglio. Cosa c'è di tu? Ah! Ma è partito il caricamento, cosa urli? Michi, dai, per favore! No, mi trovo da sola, super stucoso. Dai, Michi, per favore. Dio mio, Michi! Quei che stai giocciangendo. Cosa c'ha sta bimba? Eh, mizca! Sì, la bimba le palle. Aiuto. Dormi tu, suona le campane. Aiuto, Michi, dai. Dai, Michi, perché me lo fai fare? Perché ti ho attaccato a sincronizzare. Sì, tu stai ascoltando... Tu mi stai... Michi... Tu mi stai facendo... Ma mi spavento. Michi! Anche là c'è il cuore. Michi, dai, per favore! Michi, dai, ti giuro, non... Sì, tu mi stai facendo... Ah! No! Michi! Cazzo, Michi, per favore! No, Michi, dai, no, non posso! Dai, Michi! Madonna mia, fa come... Fa come... Ma con le cali... Ah! Che sogno sti cosi, maiale! Ma come... Eh, dai, Michi, dai! No, c'ho pa... Michi, questo qua glielo devi fare... Io sparo! Non c'è qua un in vivo, c'è! Adesso con la testa ti devi spostare, capito? Cosa devo... Ah, chiss... Ah! Fa come Michi, dai! Ah! Il fa come è, Michi! Abba, ti muore! Ah! Adesso, adesso! Ah! Che non so, c'è manco della destra, a sinistra! Michi, per favore! Dai, Michi, poverini! Oh, mamma... Ah! Michi, dai, per favore! Dai, non è una cosa giusta, questo! No, Michi! Michi, per favore! Michi! Un fa come è! Ah! Michi! Michi! Dai, ti prego, Michi, questa cosa qua! Madonna, chi stu? Oh, mamma! Aspetta! Ah! No! Ah! Ah! Fa come è! Le luci! Le luci! Dove sono? No, sparare! Carica, carica! Michi, no! Non mi devi far far... Ah! Ah! Fa come è! Michi, dai! Per favore! Michi! Dai, no! Michi! No! 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 Scemo! Eh, sì! Matto da legare! Eh, no! Sì! Tu sei da denunciare! Adesso non esagerare!